La figura del Beato Giuseppe Tognolo è indubbiamente una figura molto complessa ed è difficile estrapolare dalla sua molteplici attività sia in ambito laicale che soprattutto di docente universitario, oltre che come organizzatore del movimento cattolico delle opere dei congressi, alcuni passaggi, però ne metterei in evidenza due. Il primo che emerge fin dalla sua pre-lezione che lo farà diventare docente all'Università di Padova dove mette bene in evidenza che il dato economico deve fare riferimento all'uomo che lui considera un fascio di tante cose, anche di emozioni. Per cui la prima cosa è un'economia pensata fino dalla fine dell'Ottocento come l'uomo nella sua interezza e non soltanto l'uomo economicus. E in seconda battuta il grande impegno che lui ha avuto nel definire il concetto di democrazia cristiana. Siamo in un contesto molto discusso, anche all'interno del mondo cattolico e lui mette in evidenza che la democrazia cristiana non è né un partito ma è un modo di trattare le realtà alla luce del Vangelo e mette in evidenza come tutte le realtà giuridiche ed economiche nella loro gerarchia, come lui ben definisce, devono lavorare insieme per il bene comune a vantaggio dei poveri. Quella che un po' potremmo dire ritroviamo nell'ultima enciclica con il concetto di poliarchia. Quindi un uomo ricco di profezia, ma una profezia legata allo studio concreto della realtà. A raccogliere e diffondere l'eredità intellettuale ed etica di Giuseppe Toniolo nel cuore di Verona c'è l'omonima fondazione, uno spazio per promuovere la cultura del bene comune, far conoscere la dottrina sociale della Chiesa, far crescere i germi di bene nell'incontro e nel dialogo tra scienze e fede, uomini di Chiesa e non credenti. La fondazione Toniolo cerca di continuare quella che è stata la grande intuizione di Giuseppe Toniolo, che oggi potremmo ridefinirla come la mediazione culturale, ossia un luogo in cui la Chiesa abbia la possibilità di interfacciarsi con tutte quelle realtà che hanno matrici valoriali e culturali di diverso interesse e di diversa origine. Per cui il Toniolo, attraverso i suoi corsi che vanno dalla psicologia, alla filosofia, alla letteratura e quant'altro, attraverso la sua rivista di dottrina sociale della Chiesa, che ha sviluppo non soltanto nazionale ma anche in altri continenti, cerca di essere il punto d'incontro tra la dimensione continuamente vissuta dal laico ma anche dal non credente, alla luce della dimensione ispirativa del Vangelo. Questo perché riteniamo che la mediazione culturale sia l'espressione autentica di una fede capace di ispirare idee, provocare attività e soprattutto diventare luogo d'incontro per gli uomini di buona volontà.